Tuppi, 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 tuppi! Una per Tucci! Tucci e Mauri! In fondo in questa famiglia non si sta male. Il mando caki. Mando caki? Un po' mandorla e un po' caki. Vieni. Anche se fatico un po' ad adeguarmi al loro basso livello culturale. Fa una cosa normale, fio mio. Va a giocare a pallone, picchia un amichetto. Eh, 20, 5, 43. Ma lo sapete chi è che ha vinto 100 milioni? Noi no! Quanto predevo? Esagera, 150. Me l'aveva giurato in confessione, giurate che non erano stati loro. Io non ho vinto. Ti cuore? Fuori famo? No, te ce li porto domani. Ti prego ancora. Ma che, te sei citata? No. Ma non c'è il segreto della confessione? Sì, ma no quando dici le cazzate però. Milano. Siamo in Europa. È un'ultima cosa per la colazione. Siete vegani? No, Dettore Secca, sulla Prestina. C'è presente? Con uno con i soldi non ci potrei mai stare. I classici cafoni. Caffoni. Quello che parcheggia in seconda fila. Eccola. E' un'inversione del matrimonio nostro, no? La verità? E che te ve lo fa fa' gli auguri? Da sto amico mio! Putti albano? Eh! Felicità. I ricchi di oggi sono molto diversi da come se li immagina la signora. E vabbè, ma allora amparameli, no? E il tuo sguardo innocente in mezzalante. Io vivo di rendita. L'ascito ereditario. No, l'ascito di culo, lei? Ah, sapete quella del pappagallo che gli sudano le palle? Ma non so questo sapone. E' un couscous con formiche rosse del Madagascar. Mortacci vostra. Ci vediamo al cinema a Natale.